Arriviamo un attimo anche a pensare un momentino, come per il resto non c'è parzelletta senza metter dentro i nostri cari della benemerica. Un paesino dove c'è una compagnia di carabinieri, dove ci sono praticamente loro che sono un po' i dirigenti, il sindaco, il farmacista e imparo ecologicamente. Una copia di carabinieri, il brigadier, l'ha puntato a Caputo, stanno attraversando la piazza quando dalla canonica è sorta fuori Don Giovanni. Don Giovanni va e va alla bella emersi. Al chiesto i carabinieri si dicono, Don Giovanni, cosa è successo? Niente, niente ragazzi, vi ringrazio. Ma l'altra settimana, uscendo dal vano, in avvertitamento inciampato nel bidet, adesso è andata in terra, ma però vi ringrazio, niente di male, ho provveduto. Ma se ha bisogno, non vi ringrazio, vi ringrazio, ciao. Salute, salute, buon servizio. I due carabinieri salutano il parco e improvvisamente l'ha puntato a Caputo, campo umore. Diventa triste, raccolto. Al chiesto il brigadier, dice, ma Caputo, cosa c'è? Niente, ma guarda, se per quanto riguarda Don Giovanni gli abbiamo chiesto di fare qualcosa, lui ha detto che era, no, c'è qualcosa, ma cosa c'è Caputo, ma non stai bene? No, 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 salditi, salditi, fermati. Guardi il brigadier, io, lei che è più unziano di me sia di età che di servizio, ma che cos'è di te? Il brigadier, io guardo, lui fa, ma saprei che sa fa me che le dentaniche va qui in Cesa? Scusate, ma io ho tutti segnalati a fare. Questa è...